È un progetto a valere sui fondi del PNRR, è molto bello vedere che finalmente dopo tanto lavoro interno e dietro le quinte si iniziano a concretizzare e iniziano a diventare servizi per la città. Nello specifico questo che c'è dalla missione 5 è un progetto che prevede l'adeguamento di due appartamenti, uno in via Tantalighieri e uno in vicolo delle Saline, secondo le esigenze è un percorso di autonomia dei soggetti disabili, ma questa è solo la parte strutturale perché questo segue, motivo per cui me ne occupo io come delega, una parte prettamente sociosanitaria, nel senso che i soggetti disabili che avranno diritto a questi appartamenti oltre a trovare un appartamento adeguato dal punto di vista della domotica, della possibilità di movimento, di gestione della vita quotidiana, entreranno in un progetto che prevede dei progetti personalizzati con un'assistenza a 360 gradi da parte del servizio sociale, ASP, in base alle proprie esigenze.